Gianni che dico qualcosa che non fa una pasticciata così a Caterina Ah si bisognava In Sicilia è difficile In Sicilia era più difficile Sì è difficile Biblione si mostrano Ah si? Che tempo già era Biblione? Mangio Ci manca noi in spiaggia La prima volta che bisogna vedere Francesco il mare Se noi in spiaggia non me ne so Ma che bella sta architettura qua Imponente Perché sentivano una parte Qua seria il banco Che buona parte Come se c'è i dei grini? Eh se è Cotto Eh sì Ah sì Oddio Ma non so da dove si è Qua è la La faccina del E' pazienza Cos'è questo qui? Ah sì C'è un caffè al ristorante Un prezzo qua Panino alla donna Un prezzo a Stefano Un prezzo a Stefano Non va Un prezzo a Stefano Non un prezzo a Stefano Non un prezzo a Stefano Però lui deve mangiare Panino a Stefano Stefano Un prezzo a Stefano Un prezzo a Stefano Un prezzo a Stefano E' un santo questo Chiosco? Ah si Ben entratto Sembra che ti guardi, guarda da qui Guarda questa madonna De Giotto Penso O Cimabu e Giotto Non mi ricordo C'è scritto però in qualche cosa C'è scritto C'è scritto C'è scritto Madonna del pilastro C'è scritto C'è scritto C'è scritto C'è scritto Vedi tu E' il santo Antonio E' il santo Antonio Non c'è neanche gente Siamo fortuna Hè? la cappella del santissimo sacramento i love you i love you i love you i love you Grazie a tutti. 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 Dei signori. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. con il... di San Marco. Andiamo... Andiamo a casa. Andiamo... 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 Ah, via più rapida! Guarda che bello! Tutti in un minuto! Ah, ma è che qui è molto super basso! Super basso! Guarda, ti batti all'estazio! Alla prossima!